Mezzo secondo fa sonnicchiavi tranquillo nel tuo letto, o ti apprestavi ad andare al lavoro, o stavi portando tuo figlio a scuola, o chissà cos'altro, e tutto ad un tratto il tuo peggiore incubo o il tuo più bel sogno è diventato realtà. Sei tornato al Medioevo. Ti guardi tutto attorno, impaurito o meravigliato, ma certamente, vista l'eccezionalità della tua situazione, non hai la minima idea di che cosa succederà nei prossimi cinque minuti, quindi sei un poco perplesso. Non ti disperare, però, forse posso esserti di aiuto. Prima è il caso che tu aiuti me, o meglio, te stesso. Dove ti trovi? Riesci a descrivere il luogo che ti circonda? A quanto ne so, potresti essere su un dracar vichingo diretto verso le coste della tua Lenghilterra, tra i Mumin di Maometto, in un mercato della penisola araba, a Mallorca, mentre segui le operazioni di sbarco delle cavallerie pisane. Se guardi bene, ci sono pure anche altri toscani. Anche se poi i pisani scriveranno un'opera epica in cui diranno di esserci stati solo loro. Non farti ingannare. Oppure sei alla corte del re di Francia, davanti al Santo Sepolcro, sotto le mura di Alessandria, quella però in Piemonte, assieme a tutti quei cavalieri tedeschi che presto saranno inghiottiti dal collo del tunnel scavato un po' di fretta in queste radiose giornate primaverili. O ancora, tra gli arcieri a cavallo mongoli, magari sei fra gli Inca a Cusco, o in Cina, o in India, perché no, in Australia. Che cosa diamine succedeva in Australia nel Medioevo? Oppure, se stessimo ad ascoltare certa gente, potremmo essere nella Germania nazista, negli Stati Uniti dei Linciaggi, in una clinica clandestina in Italia prima della legge 194, o addirittura nell'ufficio di un certo tipo nel Viminale, all'incirca nell'estate 2019, prima di agosto però, perché anche questa gente va in ferie. E che ferie che hanno fatto quell'anno? Non sono particolarmente utili in questo momento, vero? Beh, anche la parola Medioevo non è particolarmente utile. Mille anni di storia, dal 476 al 1492. Dal V al XV secolo, preferisco direi io. Non mi sono mai piaciute le scansioni così nette e puntuali. Insomma, in questi mille anni succedono cose in tutto il mondo, pensa te, non soltanto qui. Un mondo che vede addirittura qualcosa di vagamente simile a una precocissima globalizzazione. In fondo uno starnuto a Bisanzio o a Bagdad ha gravi ripercussioni a Venezia. E se Venezia trema, probabilmente Genova non ha caldo. E così tutti quei flussi commerciali che dipendono dalle due città marinare d'eccezione. E così via un po' tutta l'Europa. Ma forse dovrei smettere di perdermi. Anche se onestà vorrebbe che io approfondissi anche quelle questioni che ho tirato in ballo del Medioevo nella contemporaneità. Ma ecco, l'hai letto no il nome del canale YouTube? Insomma. Insomma, il punto è che è difficile sapere dove sei, ma posso tirare a indovinare. Siamo o no eurocentrici? Siamo o no italiani? Con ogni probabilità sei in mezzo a una foresta. Magari decidua. Magari di pianura. Facciamo che è di lievissima collina. Come dici? L'ultima volta che sei stato in un bosco era per una gita di famiglia prima della pandemia? Ora guarda, vai tranquillo. Io non mi starai tanto a preoccupare. E ti spiego subito perché. Fai un attimo di silenzio. Noti qualcosa di particolare? C'è completo silenzio. Che non è una cosa normale in un bosco selvatico delle epoche buie. O così ci piacerebbe pensare. La cosa è positiva. Se c'è silenzio, mancano tutte quelle bestie che rendono le nostre selve un'armonia di suoni e colori. I pennuti. Se mancano i pennuti vuol dire che questi se ne sono andati. Magari spaventati dal tafferuglio provocato da un boscaiolo o da un gruppo di uomini a caccia o chissà cos'altro. Fatto sta che se c'è tafferuglio c'è vita e se c'è vita c'è speranza. Anche qui Roberto Speranza ti chiederai? Torna a fare silenzio, rispondo io. Incamminati. Inizia a camminare. Giù dalla pendenza, verso il basso. Sarà più probabile trovare un rivolo d'acqua o un sentiero che in questo periodo, e io credo di avere una mezza idea del periodo in cui siamo, sono estremamente trafficati. Cacciatori, boscaioli, carbonai, pellegrini, mercanti, monaci, corriere, ambasciatori in missione, eserciti in movimento, ma anche fraticelli dispersi, briganti, banditi. O pensa te, qualche decina d'anni fa avresti pure potuto trovare dei pirati musulmani. Sì, eh. Pirati in un bosco. Roba strana, ma non improbabile. Ma sai cosa potrebbe essere molto probabile trovare? Maiali. Oddio, se tu li videssi ora, non li chiameresti maiali, ma cinghiali. Però scopriresti subito che sì, sono bestie alquanto inselvatichite, ma grassi a sufficienza per dare da mangiare a una famiglia intera e relativamente docili. Pascolabili quasi. Se li vedi, contali e tieni bene a mente il numero. Più maiali ci sono, più il bosco è vasto e ricco di risorse, più è alta la probabilità che ti trovi nelle proprietà di un qualche affluente ente ecclesiastico o di qualche nobile riottoso. Pensa che nei contratti, per calcolare il valore di una selva, spesso e volentieri si usa proprio il numero di porci che questa riesce a cibare e a sostenere. Insomma, se ne conti tanti, magari stai attento. Spero tu sia vestito con colori sgargianti per farti vedere subito e incuriosire chi ti osserva o che ti sappiano scondere bene perché di questo passo una freccia nel petto non te la toglie nessuno. Sì, io non credo nel meme delle epoche buie, ma ciò non significa che siamo in una qualche sorta di comune sessantottina. La proprietà esiste, che che ne dicano certi fricchettoni? Presta molta attenzione. Scendi giù dal pendio e le senti con le voci? Gente che chiacchiera. Si chiacchiera quando si è a proprio agio o un po' nello sconforto, ma di sicuro non si chiacchiera quando ci si sente in pericolo o quando si sta per sgozzare uno sproveduto compasso dal nulla fra gli alberi. Dirigiti verso le voci e magari fatti sentire. Vai, vai avanti e vediamo che cosa succede. Grazie. Grazie. Grazie a tutti